In questa video guida parliamo di zaini trekking porta bimbo. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. Fare trekking può portare tanti benefici sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico. Quando si hanno dei bambini molto piccoli, però, spesso si deve rinunciare a questa attività perché non si sa a chi lasciarli. Fortunatamente, esistono degli zaini da trekking che integrano una seduta nella quale posizionare i bambini piccoli di età. In questo modo potremo portare con noi i nostri piccoli e godere con essi dei benefici che offre il trekking. Generalmente, la seduta è posizionata sulla parte esterna dello zaino, in maniera tale da far ricadere tutto il peso del bambino sulla schiena del portatore dello zaino. Grazie a tutti.